21 novembre 1907, nasce a Roma Giorgio Amendoli, aderisce al Partito Comunista Italiano nel 1929, qualche anno dopo la brutale uccisione del padre Giovanni da parte dello squadrismo fascista. Durante il regime, nel 1932, viene inviato al confino nell'isola di Ponza. Nel 1943 partecipa alla Resistenza, dirigendo l'attività dei GAP comunisti. Con questo incarico, nel 1944, autorizza l'attentato di Via Rasella, dove un gruppo di GAPisti romani attacca un camion militare tedesco, uccidendo 32 soldati. Dopo la guerra, viene eletto all'Assemblea Costituente. Muore a Roma nel 1980.